Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Oggi Final Four Eurolega, palla canestro, siamo al top della stagione europea, le quattro migliori squadre si affrontano per arrivare a definire chi sarà campione d'Europa in questa stagione. Prima semifinale e appena finita da due minuti, CSKA contro Efes Pils, Anadolu Efes, vittoria dei Turchi 86-89. Una partita che è stata incredibilmente appassionante perché se pensiamo il CSKA è stato in vantaggio solo sul 2-0, poi è stato sotto per tutta la partita, incontro dominato per tre periodi dai Turchi che hanno avuto anche un vantaggio di 21 punti. Una partita che sembrava controllata, poche reazioni da parte del CSKA, molto preciso nel tiro da tre punti, 5 su 5 nei primi 8 minuti per i Turchi. Micic dominante, Bobois dominante, molto bene Simon, sembrava una partita in totale controllo, poche reazioni da parte della formazione di Mosca. Invece nel finale del terzo periodo, prima di tutto, il danese Lundberg l'ha tenuta a galla impedendo che il vantaggio si alzasse ancora di più. E poi, copertina del video, a 50 secondi della fine del terzo periodo, una schiacciata poderosa di Clyburn, meno 53-71, meno 18, ma ha fatto da campanello d'allarme. Ha fatto da campanello da sveglia per la formazione di Itudis, che ha cominciato il quarto periodo con due bombe realizzate nel giro di un minuto, Ukov e Lundberg a tre punti, si è riportata a meno 10 e da lì ha eroso lentamente il margine della formazione di Ataman. Devo dire, quarto periodo, Micic calato, quinto fallo in attacco, l'Archino oggi è una partita un po' confusa, la formazione di Ataman ha avuto un po' il braccino, come dicevamo ieri del Venezia parlando di calcio, di fronte all'obiettivo di arrivare finalmente a questa finale di Eurolega, pur dopo aver giocato una grande stagione e stanno giocando una partita eccezionale, però Boisbois soprattutto ha ribattuto colpo su colpo sulle giocate di Clyburn, che è stato un giocatore straordinario oggi, e si è arrivati quindi a questo finale dove ogni giocata è stata veramente fondamentale, ricordo un rimbalzo di Dunstan nell'ultimo minuto, e il CSKA ha avuto diverse volte il pallone anche per passare in vantaggio, però le ha buttati via anche con delle folie che in una partita così intensa, ok, molto facile da casa dire qui è sbagliato, qui non è sbagliato, ma il CSKA a 12 secondi dalla fine ha recuperato un altro rimbalzo in attacco, Illiard ha fatto un tiro da tre punti molto forzato, molto affrettato, su cui la formazione di Ataman ha preso il rimbalzo, l'Archino invece di andare a congelare il gioco ha subito un fallo, ha fatto solo uno su due tiri liberi, il CSKA ha avuto quindi il time out a 7 secondi dalla fine con l'ultima palla per pareggiare da sotto di due o addirittura andare a vincere l'incontro. La scelta è stata ancora un tiro da tre di Claiborne, il tiro di Claiborne ha colpito il ferro, lotta a rimbalzo, l'Archino conquista il pallone, fa soltanto uno su due anche in questo caso dalla lunetta, ma i turchi riescono a portare a casa questa vittoria. Partita quindi nel complesso veramente divertente, veramente emozionante da seguire, una stesura di un romanzo assolutamente eccezionale, il quintetto ideale di questo incontro. Micic, 25 punti per lui, una prestazione per tre quarti straordinaria, preoccupante per lui, il calo del quarto periodo, ma veramente grandi giocate, assist a liberare nel momento in cui il CSKA era veramente in confusione. Bebois, 15 punti, ma le giocate chiave, è il mio MVP di oggi, Bebois, perché i punti si contano, ma soprattutto si pesano, l'importanza dei suoi canestri nel quarto periodo a mio avviso è stata decisiva ed è quella che ha permesso alla formazione di Ataman di vincere. Lundberg, 15 punti, il danese, una grandissima partita, esterni del CSKA in difficoltà, Schenghelia il peggiore in campo, Illiard una brutta partita, Hackett non ha giocato male, ha fatto una partita molto intensa come al suo solito, ma è stato Lundberg a dare il via alla rimonta, Clebur, 26 punti, non ha mai fallito il colpo, ha sbagliato soltanto l'ultimo tiro. Raccontavano i telecronisti che lo guardavano in allenamento, aveva fatto tipo 14 canestri consecutivi dalla mattonella da cui ha sbagliato il tiro decisivo. Tirare in partita è diverso da tirare in allenamento, però una grande partita per lui e questa giocata incredibile di questa schiacciata. E poi l'uomo, l'altro uomo chiave per la formazione turca, San Li, per lui 19 punti, 8 rimbalzi, le stoppate, c'è una giocata all'inizio subito quando stoppa Erich, praticamente ha fermato tutti gli attacchi del CSKA, dietro è avere un guardia del corpo, una sicurezza, una grande partita anche per lui. Notevole poi, come dicevamo, la prestazione di Hackett, mi è piaciuto anche Simon che ha giocato una buona partita. Peggiori in campo, Schenghelia e Illiard. Arbitri dell'incontro, la Terna, Puckel, Garcia e il lituano Villius. Devo dire, per tre periodi mi sono piaciuti molto. Poi Puckel, che aveva già concesso un fallo antisportivo corretto, ne ha dato un altro a 2,18 dalla fine del periodo, rivisto, lo hanno tolto correttamente perché non c'erano gli estremi per il fallo antisportivo. Da lì l'arbitraggio qualche mancanza. Nel quarto periodo un paio di fischi, ci sono stati tanti falli in attacco, non credo proprio tutti corretti, un fischio anche che mi è sembrato un po' compensativo contro Hackett dopo che era stato fatto un errore contro invece la formazione turca. Il quinto di Micic Hackett si tuffa molto bene. Insomma, qualche svista, gli ultimi due minuti arbitrati bene, per cui la pagella per loro alla fine 6,5 a Puckel, 6,5 per tutti e tre, perché anche il giovane Villius non si è comportato male. Un arbitraggio che mi sembra comunque più che sufficiente, però nel complesso dei 40 minuti, con qualche svista che però da arbitri di Eurolega non mi aspetto. Grazie ragazzi, ci sentiamo più tardi. Gioca l'Armani contro il Barcellona per andare ad affrontare la Nadol Uefes. Iscrivetevi al canale, like se vi piace ogni video, campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti. Ciao e arrivederci con la Final Four di Eurolega. Ciao!